Bella tutti compagnia, bentornati con un nuovo video informazione riguardo Battlefield 2042. In questo video vi parlerò delle ultime novità rilasciate riguardo a questo titolo, ma soprattutto vi annuncio che questo giovedì alle 18.30 mi trovate online qui sul canale YouTube per guardare insieme a voi la conferenza degli Electronic Arts chiamata EA Play, dove oltre ai vari titoli che verranno presentati degli Electronic Arts, come sicuramente FIFA e robe così, vedremo sicuramente tante novità riguardo Battlefield 2042, come ad esempio la modalità Hazarzone, che io sono tanto curioso di scoprire che cosa sia. E in questo video vi parlerò anche di cosa mi aspetto in questa conferenza riguardo proprio Battlefield 2042. Successivamente alla live qui su YouTube andremo in live sul canale Viola per stare tutti quanti insieme su Discord e discutere della conferenza. E per concludere, venerdì, il giorno dopo la conferenza degli Electronic Arts, faremo un Battlefield Talk Show riguardo proprio questa conferenza dove ne discuteremo tutti quanti insieme e analizzeremo tutte le novità nel dettaglio. Ma andiamo con calma. Nelle ultime settimane sono uscite tante nuove novità, ma soprattutto tante conferme. La più importante, secondo il mio punto di vista, è il crossplay. Finalmente si è saputo qualcosa, perché di fatti DICE ha confermato l'intenzione di aggiungere questo crossplay. Di fatti hanno rimandato il playtest di Battlefield 2042 per fare degli ulteriori test sull'integrità del crossplay, che attualmente è confermato sia tra Old Gen, cioè tra PS4 e Xbox One X, e Next Gen per quanto riguarda PlayStation 5, Xbox Series X e non mi ricordo qual'altro come si chiama, e ovviamente PC. Ma non vi allarmate, perché DICE ha già confermato la possibilità di zazetevare questo crossplay, dunque poter giocare solamente con utenti della stessa console. E questo, come detto, la reputo la novità più importante, perché serve ad unire la community tra varie console. Cioè, la possibilità di poter giocare da PlayStation insieme agli utenti, sia di PlayStation che da PC, come alcuni voi iscritti, oppure Diermax, Master, Doom e Matex, a me fa un sacco piacere, perché io sinceramente su PC, ancora faccio schifo, dunque mi troverai a giocare meglio da PlayStation 5, no? E lì vi posso mostrare la mia vera potenza di troller. Oltre a questo, in un'altra conferenza di Electronic Arts chiamata IE Play Live Spotlight Series, dove si è parlato del futuro degli FPS, per quanto non si è parlato nel dettaglio di Battlefield 2042, è uscita un'importantissima notizia dai Ripple FX Studios, che sarebbe il nome del rebrand di Dice Los Angeles, dove hanno confermato la presenza di alcune vecchie mappe dei vecchi capitoli di Battlefield all'interno delle mappe di Battlefield 2042. E questo, come già detto anche durante il Battlefield Talk Show, è una cosa che mi sarei aspettato, perché i riferimenti già c'erano nel trailer. Basta guardare la mappa Fug, che c'è quel dirupo come Picco di Damavand, o come Manifesto che assomiglia tanto a Canale di Noshar o Banchina di Battlefield Hard Rain. Però il fatto che è stato ufficializzato la presenza di queste mappe mi fa presagire davvero molto bene riguardo l'ultima modalità proprio sviluppata da Dice Los Angeles, che adesso si chiama Ripple Effect Studios, e tutto questo molto probabilmente ne sapremo nel dettaglio questo giovedì. Altre novità arrivano da un'intervista fatta a Daniel Berling, che è un designer director di questo capitolo, dove ha chiarito alcune cose dove la community era ancora dubbiosa. Ad esempio ha confermato la presenza del revive di squadra, un po' come Battlefield 5, con la differenza che se non utilizzerai Maria Falk, che ha l'abilità appunto di rianimare full vita i propri compagni di squadra, senza questo operatore potrai comunque rianimare i compagni di squadra, ma la loro vita non sarà completa al 100%. Dunque a tutti gli effetti è un nerf al sistema di rianimazione di squadra, in modo tale da premiare chi utilizza Maria Falk col proprio gadget. Oltre a questo, un'altra importante conferma arrivata sempre da Daniel, sono i punti squadra, perché durante questa intervista ha chiarito come vengono chiamati i famosi veicoli, specificando che vengono utilizzati dei punti di squadra che vanno a cumularsi durante la partita, esattamente come accade in Battlefield 5. Con la differenza che, da come ho capito e da come ha detto lui, saremo noi a scegliere che cosa poter chiamare in partita. Perché lui ha fatto un esempio riguardo il cane robot che si vede nel trailer, che hanno detto che si chiama Ranger il nome di questo cane robot, appunto confermando che chiunque lo potrà chiamare all'interno della battaglia, con una limitazione sul numero massimo all'interno di una partita, dunque ipotizzo, non so, massimo 5 per fazione, e la funzionalità di questo cane robot sarà difenderti, perché infatti è specializzato nei scontri di fanteria e sarà governato dall'intelligenza artificiale, dunque già mi aspetto che si bloccherà in mezzo a qualche porta, così, a primo pensiero dico. Sta di fatto che potrete anche dargli degli ordini, come ad esempio assaltare un determinato obiettivo, oppure spottare all'interno di una stanza. Ma tranquilli, il signor Daniel ha già specificato anche che sarà molto semplice tirarlo giù questo cane, perché non solo cadrà facilmente con degli esplosivi, ma è molto vulnerabile agli impulsi IMP, dunque al gadget drone di Casper, non mi viene il nome. Senza entrare troppo nel dettaglio ha comunque chiarito altre meccaniche riguardo questo sistema di richiamo, ovvero che una volta richiamato un veicolo, un gadget o quel cavolo che sia, avrai un cooldown prima di poterlo riutilizzare nuovamente. Andando a limitare, concedetemi il tra virgolette camperare sui veicoli, e anche qui ho confermato che i veicoli saranno limitati, dunque ne potremo chiamare un tot per fazione in una partita, e inoltre ha dichiarato che questa cosa cambierà da mappa a mappa, cioè in alcune mappe ci potrebbero essere più o meno veicoli o più e meno gadget da richiamare. E questa meccanica sono molto curioso di vederla nel dettaglio, perché ipoteticamente se potrai chiamare anche un attacco IMP oppure un UAV all'interno della mappa, in una zona della mappa, sarà molto utile perché aiuterà in generale tutta la tua fazione. Ma anche qui, indovinate un po', ne sapremo di più sicuramente il 22 luglio. E arriviamo alle conclusioni di cosa io mi aspetto questo giovedì. Innanzitutto, come già detto, sono molto curioso di vedere le modalità nuove, appunto Hazard Zone e quell'altra sviluppata da Dice Los Angeles. Vorrei vedere nel dettaglio come funziona questo sistema di richiamo dei veicoli, dei gadget o quel che sia. Vorrei che chiarissero una volta per tutte il sistema di Season Pass e di operatori, perché hanno già confermato più volte, non ci saranno più delle classi ma ci saranno gli operatori. Hanno confermato un arsenal aperto, dunque su qualsiasi operatore potrai usare qualsiasi arma. Ma soprattutto avrei dettagli in più riguardo proprio la personalizzazione generale del gioco, ovvero le armi, gli operatori, i veicoli ed eventualmente i gadget. Dunque io questo giovedì spero che Battlefield 2042 si ritagli una bella fetta di tempo dalla conferenza Electronic Arts per dare tutti i chiarimenti e tutte le conferme riguardo le ultime notizie. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste ultime novità, ma soprattutto che cosa vi aspettate voi dalla live di questo giovedì. Detto questo ragazzi il video finisce qua, spero che vi sia stato utile e soprattutto vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo giovedì alle 18.30 qua sul canale YouTube per la conferenza Electronic Arts o mi trovate sempre dal lunedì al venerdì in live sul canale Viola alle ore 20. Vi aspetto giovedì alle 6.30, poi la sera e poi ulteriormente venerdì per il Battlefield Talk Show. Oppure ci vediamo con un prossimo video, sempre by Bad Company Italy! Ciao! Ciao! Ciao!